15.163,82 euro. Ecco quanto hanno speso per il mese di giugno 2010 i cittadini di Licata per sostenere in carica l'amministrazione comunale guidata dal sindaco allontanato dalla città Angelo Graci e sotto processo per corruzione. Nel dettaglio al sindaco Angelo Graci è stata liquidata la somma di 3.523 euro al vicesindaco Gaetano Lombardo per il periodo dal 24 maggio al 28 giugno 1.808 euro all'assessore Giuseppe Mulè 1.585 euro all'assessore Salvatore Furnò 951 euro di cui sei giorni del mese precedente all'assessore Calogero Scrimali 1.902 euro di cui sei giorni per il mese precedente all'assessore Giuseppe Sanfilippo 792 euro all'assessore Giovanni Giambra 1.585 euro all'assessore Gianfranco Pilato in carica dal 9 giugno 2010 1.109 euro mentre per l'assessore Giuseppe Sorriso sono stati liquidati 1.902 euro di cui sei giorni per il mese precedente. Il comune inoltre ha liquidato la somma di 4.648 euro quale compenso ai componenti in nucleo di valutazione 2.324 euro lordi sono stati liquidati al dottor Giuseppe Vella contestualmente segretario generale della provincia di Agrigento ed ex segretario generale del comune di Ricata altri 2.324 euro lordi all'avvocato Dario Romano. Dario Romano.